Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Ho aperto al pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 19 il roseto comunale che ospita più di mille varietà di rose provenienti da ogni parte del mondo. L'ingresso è libero. Infine sono tornate i fori imperiali, il foro di Augusto e il foro di Cesare, i due percorsi storico-virtuali a pagamento nei quali la voce di Piero Angela ci illustra la vita nell'antica Roma. I spettacoli si possono vedere insieme o separatamente.